La valutazione finale assegnata a questo articolo di Sony è di 8.8 voti su un totale di 10. Per questa categoria, risulta al momento essere il più votato con 5.114 valutazioni globali. I punti di forza sono. Facile da installare. Controllo remoto. Ottimo rapporto qualità-prezzo, stile, qualità del suono, leggero. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Questo prodotto realizzato da Sony ha conquistato una votazione di 8.4 su 10 punti totali. Risulta essere il più esclusivo di questa selezione. Si rivela una soluzione più che buona dalle ottime prestazioni e, come testimoniano le recensioni, risulta essere molto apprezzato dagli utenti che lo hanno già acquistato. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. La votazione finale assegnata a questo prodotto di Sony è di 8.8 voti su 10. Questa è la nostra scelta migliore. Questi sono i suoi punti di forza. Connettività Bluetooth. Facile da installare. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Qualità del suono. Controllo remoto. Qualità dei bassi. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Sony ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8.4 su 10. Risulta essere il più scontato di questa selezione. Le sue peculiarità sono. Controllo remoto. Qualità del suono. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto finale ha giudicato da questo articolo di Sony e di 9 voti su 10. Risulta essere il prodotto più regalato. Ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono. Facile da installare. Controllo remoto. Qualità del suono. Ottimo rapporto qualità-prezzo. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. Il voto finale è assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di Sony e di 8.8 su 10. È il più desiderato. I punti di forza sono. Facile da installare. Controllo remoto. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Qualità del suono. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Grazie a tutti.